Il 10 luglio è apparso sul sito della Casa Bianca l'informazione che nel 2026 gli Stati Uniti inizieranno a dispiegare armi a lungo raggio sul territorio della Germania. In Russia hanno dichiarato che elaboreranno una risposta militare a questo nuovo gioco. Oggi, prima agosto, si è saputo che nel partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz la decisione di dispiegare missili degli Stati Uniti in Germania non è stata supportata. Commenti su questo tema da parte di Bakuti Vrudal, direttore generale dell'Istituto Caspico di Studi Strategici della Russia, Igor Korochenko. Nel caso in cui sistemi missilistici americani a medio raggio saranno dispiegati sul territorio della Germania, puntati contro la Russia, con un tempo di volo di circa 10 minuti per colpire i principali obiettivi sul territorio della Federazione Russa, naturalmente questo sarà un momento di svolta nella storia europea moderna, dello scontro fra Occidente e Russia. Qui il fattore principale è il fattore tempo. Un tempo di volo di 10 minuti significa che in caso di un attacco con i sistemi missilistici statunitensi menzionati dal territorio della Germania Mosca semplicemente non avrà tempo per determinare le cause o le circostanze oppure l'affidabilità delle decisioni prese sia a Washington che a Berlino. Perciò per la Russia rimane solo un'opzione di reazione, un attacco nucleare di risposta, ovvero sia sul territorio della Germania, dove saranno posizionati i lanciatori di questi missili americani, sia partendo dal principio di reciprocità, reciproca tra virgolette, ovviamente un attacco nucleare limitato, ad esempio con l'uso del complesso missilistico mobile terrestre Topol con una testata potenziata su uno degli obiettivi militari sul territorio degli Stati Uniti continentali. I. Proprio ecco in cosa consiste il pericolo di questa situazione. Inoltre il cancelliere Scholz è, così come il suo collega, il ministro della difesa tedesco Pistorius, strumenti docili della politica americana. Cioè le persone non rendono conto o non vogliono rendersi conto del rischio a cui espongono la Repubblica federale di Germania e i propri cittadini, posizionando sistemi missilistici americani. Inoltre, come giustificazione, Berlino dice che la Russia ha violato qualcosa, posizionando complessi missilistici operativi tattici Iskander-M nella regione di Kaliningrad. In risposta a ciò Berlino in effetti ha seguito gli Stati Uniti. Questa affermazione è assolutamente falsa dal punto di vista delle minacce. Il fatto è che il complesso Iskander-M ha una portata massima di lancio di 500 chilometri e quindi puramente per limitazioni tecnologiche non viola il trattato sui missili a medio e corto raggio e non può essere utilizzato come argomento per una doppia congiunta americano. A questo proposito, ovviamente, le forze politiche sane della Germania, che non desiderano diventare un bersaglio per i sistemi d'attacco russi, esprimono preoccupazione per i risultati preliminari dei negoziati tra il Pentagono e il Ministero della Difesa tedesco che porteranno a un netto cambiamento nei rapporti di forza nel teatro europeo delle operazioni militari e di fatto provocherà una seconda crisi dei missili di Cuba. Pertanto ritengo che probabilmente dopo alcuni partiti politici della Repubblica federale tedesca possa essere creata una vasta coalizione politica di varie forze e movimenti che si oppongono alla presenza di sistemi missilistici americani in Germania, in questo modo non esporsi a diventare un bersaglio per Russia. Tuttavia, se la Federazione russa dovesse uscire dalla moratoria sul dispiegamento dei propri missili a medio e corto raggio, ciò significherebbe almeno l'adozione di decisioni tecnico-militari molto importanti. Prima di tutto, ovviamente, si parlerebbe del fatto che sulla base dei missili da crociera calibre, che oggi sono missili navali, verrà creato una variante mobile terrestre, cioè un telaio mobile a terra, sulla base del quale saranno dispiegati un pacchetto di missili da crociera calibre, sia in configurazione convenzionale che nucleare e grazie alla sua mobilità e furtività sarà estremamente difficile per le risorse di intelligence spaziale del nemico, in particolare per la NATO, rilevare questo complesso mobile nella zona di posizionamento. Quindi questa sarà una forma di reazione e l'altra forma sarà chiaramente che... Sarà presa una decisione politica sulla produzione in serie, ancora una volta, dei complessi missilistici su piattaforme mobili. Rubez con una gittata fino a 5.000 km per collocare le suddette installazioni di lancio nell'est della Russia, al fine di prendere di mira sia obiettivi militari in Alaska che obiettivi militari nel territorio continentale degli Stati Uniti. In ogni caso, la Russia non darà all'Occidente alcuna possibilità di rompere l'attuale parità strategico-militare. Pertanto, se gli Stati Uniti e i loro satelliti in Europa intendono creare una minaccia per la sicurezza della Federazione Russa, Mosca agirà allo stesso modo, sospendendo la spada di Damocle sopra la testa dei politici di Washington e Berlino. I partiti del cancelliere tedesco Olaf Scholz non hanno sostenuto il dispiegamento dei missili USA in Germania. Una delle ragioni è stata la questione se Berlino avrà o meno voce in capitolo sull'uso di queste armi. In precedenza è stato riferito che gli Stati Uniti inizieranno il dispiegamento di armi a lungo raggio in Germania nel 2026 per dimostrare ai paesi europei l'impegno di Washington verso la Nato. Allo stesso tempo, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che in caso di dispiegamento dei missili USA in Germania, la Russia si considererà libera dal moratorio sul dispiegamento dei propri missili a medio e corto raggio. Il politologo Evgeny Mikhailov ha condiviso un commento su questo argomento con Bakuto Varou. In realtà capisco benissimo la paura del partito di Olaf Scholz che ha dichiarato che nel 2026 non permetteranno il dispiegamento di missili americani, di fatto strategici sul territorio tedesco. Avvertimento di Vladimir Putin. Non viene dato tanto per dare. Penso che i tedeschi ricordino perfettamente la storia di come la Russia reagisca alle minacce ed è ovvio che con il dispiegamento di missili a lunga gittata con la possibilità di testate nucleari sul territorio tedesco. La Russia risponderà adeguatamente e la Germania diventerà l'obiettivo numero uno. Sul fronte di altri paesi che minacceranno la sicurezza nazionale della federazione russa. Adesso possono scrivere tutte le note che vogliono, dichiarazioni, ma improvvisamente possiamo anche supporre che improvvisamente facciano pressione per ottenere un permesso simile per gli americani. Ma gli americani possono dichiarare qualsiasi cosa in realtà e possono fare pressione per ottenere il dispiegamento di qualche missile. Ma sapete, comunque il buonsenso a mio avviso prevarrà. Penso che in questo contesto non ci saranno più linee rosse, intendo in Russia, perché abbiamo fatto tutti gli avvertimenti e lascia che tutti questi leader europei, se commetteranno errori, se la prendano con se stessi, cioè il vecchio ordine mondiale è finito. Stanno arrivando nuovi tempi. La Russia sta guadagnando forza, ha guadagnato forza. La Russia è l'avanguardia della resistenza del sud globale, contro l'occidente globale. E in questo momento sopravvivono coloro che sanno orientarsi correttamente. Questa è la mia opinione, ovviamente può essere controversa, ma in realtà Mosca ha molti alleati e il presidente della Russia, Vladimir Putin, lo capisce perfettamente. Si può ovviamente dire che la Russia ha solo due alleati, che sono l'esercito e la marina. Ma in questo contesto di opposizione agli interessi occidentali, penso che molti ci supportino.